Con il Sindaco di Castelli parliamo di questa settimana dedicata alla storia dell'arte con la partecipazione davvero gradita e importante dello storico dell'arte Vittorio Sgarbi. Assolutamente, noi quest'anno orgogliosamente riproponiamo il Festival della Storia dell'Arte che era stato fatto diversi anni fa e oggi lo riproponiamo per la quarta edizione. Quindi per una settimana del 19 agosto al 26, praticamente ogni sera ci sarà un tema riconducibile al mondo dell'arte. L'evento centrale quindi ci terrà a battesimo appunto il celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi che sarà proprio il 19 di agosto. Questa nuova amministrazione con Rinaldo Seca ha voluto riprendere questa grande iniziativa che è unica in Italia e per fortuna abbiamo mantenuto la promogenitura che ci avvicina a grandi festival della filosofia a Modena, della letteratura a Ferrara e così anche Castelli ha un posto d'onore nelle manifestazioni nazionali. È una settimana di grandi eventi a Castelli, in particolare che cosa vedranno i tanti visitatori? Si tratta di una scoperta dell'arte in tutte le sue forme, principalmente e ovviamente l'arte figurativa, ma non soltanto. Una storia dell'arte che tocca la musica, che tocca la gastronomia, perché no? E poi degli spazi dedicati a tutti, anche più piccoli, con delle giornate specifiche per loro, con dei laboratori. E ai disabili, una giornata che va a scoprire l'arte come forma di integrazione sociale, con disabili e ragazzi immigrati. Quindi un cartellone veramente ricco di eventi che accontenderanno tutti i gusti. Noi organizziamo questo festival perché Castelli è la patria dell'arte, quindi vogliamo che questo evento possa sublimare questa sua profonda caratteristica.